Ciao a tutti, oggi stiamo in due nuove aperture di Animal Action 3D Card Focus. Nelle scorse aperture abbiamo trovato un pappagallo, un canguro, uno squalo, una della giraffa, un leone, un orso polare, un fenicottero e oggi apriamo quelle nuove. Ok, trovo un doppione o no, e ora non ho trovato nessun doppione. Vediamo se ho trovato ed è caduto. 3, 2, 1. Ok, il mio primo doppione, un canguro. Apriamo l'altro, spero che non sia un doppione. Anzi, un altro. Ok, speriamo di no. 3, 2, 1. Due doppie, non ci credo. Per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima.